Lo avvicinano a notte fonda con tutto l'intento di derubarlo, picchiandolo con calci e pugni alla testa, portandogli via il cellulare, le chiavi di casa e il portafogli. I fatti risalgono alla notte del 25 ottobre, vittima dell'accaduto un triestino di 46 anni, autori dell'aggressione, un kosovaro e un albanese rispettivamente di 31 e 32 anni, successivamente arrestati dalla polizia. Nello specifico il personale della squadra volante, su richiesta del 118, è intervenuto alle 4 del mattino circa in Viale 20 settembre, dove i sanitari stavano soccorrendo un uomo che aveva subito un'aggressione in strada. Gli operatori hanno appreso che la vittima era stata rapinata da due soggetti sconosciuti, ancora presenti in loco, che avvicinandolo lo hanno colpito ripetutamente rubandogli soldi, documenti, il telefono e le chiavi. I due soggetti, riconosciuti dalla vittima e intercettati dai poliziotti, dopo essere stati sottoposti a perquisizione personale, sono stati prima accompagnati negli uffici della Questura per le formalità di rito e poi, su indicazione del pubblico ministero di turno, sono stati accompagnati in stato d'arresto alla casa circondariale Ernesto Mari di Trieste.